cari amici del canale youtube dentro la notizia anche oggi giornata ricca di notizie e approfondimenti sfm uk management il ramo britannico del soros found management ha acquisito il 3 per cento della gam società elvetica di asset management che nel 2018 ha subito dei rovesci finanziari nel business e forti perdite in borsa proprio nelle scorse settimane l'assemblea degli azionisti aveva negato ai dirigenti gamma il riparo da eventuali azioni legali il crollo del 76 per cento archiviato dal titolo gamma nel 2018 è legato per lo più alla crisi di alcuni fondi della società e ai conseguenti ingenti deflussi di capitali l'annuncio dell'ingresso in gamma del ramo londinese del fondo di soros è stato un atto dovuto in quanto le norme della borsa svizzera prevedono che dal 3 per cento in su le partecipazioni debbano essere dichiarate i portavoce di gam non hanno voluto commentare l'approdo di soros nella società quindi occhi puntati su gam e soprattutto sulle prossime mosse del finanziere americano su questo suo nuovo versante elvetico giovedì 23 maggio un gruppo di creditori tedeschi in possesso di titoli di stato della grecia per 3 milioni di euro ha perso la sua battaglia legale dinanzi al tribunale dell'unione europea a cui si era appellato dopo la ristrutturazione del debito pubblico ellenico avvenuta nel 2012 e contro cui si era opposto gli obbligazionisti avevano chiamato in giudizio la bce rea a loro dire di aver avallato tale ristrutturazione con un parere favorevole chiesto dal governo di atene i giudici europei hanno sentenziato che l'istituto non avrebbe travalicato i suoi poteri con la concessione del parere favorevole e nemmeno vincolante anche perché hanno riconosciuto il diritto degli stati di rivedere le condizioni contrattuali nel caso in cui confliggessero con gli obiettivi di interesse generale in sostanza non si può considerare una violazione degli obblighi contrattuali la revisione degli accordi qualora sia divenuto impossibile mantenerli che lezione possiamo trarne il virus dell'ebola è da mesi che continua a mietere vittime i morti sono già 1200 su quasi 1800 casi di contagio un tasso di mortalità elevatissimo ma l'ebola è un morbo terribile e solo una controffensiva ben organizzata può avere la meglio sulla sua diffusione ed evitare che dalla repubblica democratica del congo il virus balzi nel confinante sud sudan nei campi profughi e da lì diventi poi inarrestabile il virus è infatti venuto alla luce nel nord est del congo dove continua una spietata guerriglia di gruppi giadisti associati a boko haram e ad al qaeda sono aree ricche di minerali preziosi ma anche terribilmente instabili teatro di massacri e esodi di massa dove la popolazione è diffidente di tutto e di tutti chissà perché chi c'è dietro boko haram e al qaeda vi invito a vedere il tg flash del primo gennaio 2019 sull'ebola in europa e del 29 dicembre su boko haram pare che ogni mossa ogni decisione assunta in queste settimane dai falchi di washington vada nella stessa direzione fare dell'iran 2019 l'iraq 2003 una guerra che non ha come motivazione vera il nucleare iraniano 16 anni dopo l'iraq l'obiettivo strategico degli usa è quello sempre di abbattere un regime diventato scomodo per washington e per i suoi più stretti alleati in medio oriente l'arabbia saudita e israele e questa possibile guerra può vedere coinvolta l'italia trump dispiegherà in italia gli f35 nella base di aviano analisti di provata esperienza in vicende geopolitiche militari concordano nel ritenere che il dispiegamento di f35 in italia può essere legato all'escalation della crisi con l'iran misure che faranno aumentare le tensioni nella regione del golfo persico così il ministro degli esteri iraniano mohammad javad zarif ha definito l'invio di altri 1500 soldati americani in medio oriente deciso dal presidente trump in seguito a presunte minacce iraniane denunciate da membri della sua amministrazione l'iran vedrà la fine di trump ma lui non vedrà mai la fine dell'iran aveva minacciato lo stesso zarif nel corso della sua visita ufficiale in pakistan il riferimento del capo della diplomazia di teheran è al tweet dei giorni scorsi di trump che avvisava la repubblica islamica di non minacciare più usa altrimenti sarebbe stata la sua fine ufficiale zarif ha detto che anche se trump ha accusato più volte la nazione iraniana con il titolo di terrorista è lui quello che se lo merita gli usa lanciano accuse senza fondamento per giustificare la loro politica aggressiva verso di noi convinzione dei democratici americani e non solo di zarif è che bolton sia la ricerca di una scintilla per muovere guerra agli ayatollah nel suo staff di fatti ha collaboratori che sono definiti falichi con israele bolton insiste nell'affermare che l'iran stia costruendo la bomba atomica smentito però dalle ispezioni dell'agenzia sul nucleare a iea delle nazioni unite e dai rapporti degli ultimi anni delle intelligence e del pentagono stesso pare che l'influenza dell'ex ambasciatore all'onu sulle decisioni di trump sia cresciuta a tal punto che il quotidiano britannico guardian si sia chiesto in un commento se davvero john bolton non sia l'uomo più pericoloso al mondo ed anche il new york times riflette su come spingendo gli usa alla collisione con l'iran il consigliere nazionale alla sicurezza realizzerebbe un obiettivo di politica estera perseguito da tempo a rendere esplosiva la situazione si aggiunga che secondo un recente rapporto dell'intelligence militare di gerusalemme attualmente esbolla disporrebbe di oltre 100.000 missili rispetto ai circa 12.000 che aveva prima della guerra dell'estate 2006 e il sito french intelligence riferisce che gli esbolla starebbero costruendo almeno due installazioni in libano dove produrre missili ed armamenti nella prima installazione verrebbero prodotti razzi fate 110 capaci di colpire quasi tutto il territorio israeliano con una gittata di 300 chilometri e un livello di precisione nel complesso situato sulla costa mediterranea invece verrebbero fabbricate munizioni di piccolo calibro e questo col sostegno dell'iran nel frattempo l'iran propone ai paesi del golfo persico di firmare un patto di non aggressione teheran cerca di costruire rapporti equilibrati con i paesi del golfo ed è disposta a firmare un patto di non aggressione lo ha affermato il ministro degli esteri iraniano mohammad javad zarif secondo quanto riportato dal canale televisivo al arabia zarif ha dichiarato in una conferenza stampa con il ministro degli esteri iracheno che l'iran ha proposto di firmare un accordo di non aggressione con gli stati del golfo contemporaneamente ha sottolineato che l'iran contrasterà però qualsiasi aggressione sia economica che militare dal 1966 al 1996 circa 193 test nucleari furono condotti dalla francia attorno alle isole della polinesia francese tra cui bora bora e tahiti per la prima volta nella storia la francia ha riconosciuto ufficialmente che i polinesiani francesi sono stati costretti ad accettare quasi 200 test nucleari condotti per un periodo di 30 anni dopo che il parlamento francese ha introdotto tale ammissione in un progetto di riforma dello stato della collettività di 118 isole nel pacifico meridionale così riferisce de telegraph patrice boire esperta dell'osservatorio degli armamenti un'organizzazione indipendente incaricata di misurare gli impatti dei test nucleari effettuati dalla francia in polinesia dal 1984 ha accolto con soddisfazione il disegno di legge queste le sue parole riconosce il fatto che la salute della popolazione locale potrebbe essere stata danneggiata e quindi la responsabilità dello stato francese nel risarcire tali danni fino ad ora l'intero discorso francese era che i test erano puliti era proprio la parola che veniva usata e che avevano preso tutte le debite precauzioni per il personale e la gente del posto dopo decenni di pressioni nel 2010 il governo francese ha offerto milioni di euro in compensazione per i 201 test nucleari del governo nel pacifico meridionale e in algeria la corea del nord ha fatto una nuova minaccia agli stati uniti così scrive news week pion young ha avvertito washington che l'america dovrà affrontare una dura risposta nel caso non cambierà la sua strategia di negoziazione sul nucleare della penisola coreana in particolare se non allenterà le sanzioni come ricorda appunto news week dopo le negoziazioni tra il presidente degli stati uniti donald trump e il leader nord coreano kim jong un che sono state bloccate nel febbraio di quest'anno le relazioni tra i due paesi hanno cominciato a tornare all'ostilità come nel 2017 quando washington e pion young erano sull'orlo della guerra un agente della polizia di tolosa ha picchiato con un manganello un corrispondente di rt france durante una dimostrazione dei gilet gialli secondo il canale televisivo russian today il giornalista ha gridato che apparteneva alla stampa ma ha continuato ad essere picchiato in precedenza un incidente simile si era verificato a parigi con victoria ivanova corrispondente di riano vosti durante gli scontri della manifestazione del primo maggio nella capitale francese la ivanova era stata colpita con un manganello dalla polizia ivanova aveva presentato una denuncia contro l'ispettorato generale della polizia nazionale francese igpn in proposito il sito di un sindacato di polizia francese la polizia arrabbiata ammette testualmente di aver applicato gli ordini ultra repressivi dell'esecutivo per imbavagliare i gile gialli i sindacati di maggioranza della polizia che hanno accompagnato o incoraggiato le politiche ultra repressive del governo nei confronti dei gile gialli hanno aumentato di più l'esposizione dei nostri colleghi a sanzioni penali particolarmente gravi e leggiamo ancora una vena di antipolitica nel sindacato di polizia che si dichiara apolitico questo quanto scritto nel 2020 il bilancio del parlamento europeo supererà i due miliardi di euro per la cronaca un deputato al parlamento costa attualmente ai contribuenti la modica somma di due milioni e mezzo di euro all'anno qualunque sia l'esito delle elezioni europee nulla cambierà per il popolo e la sua polizia gli unici veri vincitori saranno i funzionari eletti che metteranno in palio un bel jackpot grazie alle vostre schede elettorali la posizione della nostra unione è chiara tutti i marci e assumiamo completamente questa posizione che alcuni non mancheranno di definire populista la crisi dei gire gialli ha mostrato il vero volto dei partiti politici quello della strumentalizzazione della manipolazione e dell'utilizzo del lavoro delle forze di polizia per scopi politici 29 suicidi di poliziotti e migliaia di feriti nelle nostre file 240 inchieste igpn migliaia di gire gialli feriti o mutilati a vita è quello che hanno tenuto i nostri cari politici che vengono oggi a reclamare le nostre voci per arricchirsi un po' di più mentre noi moriamo siamo i kukholz della storia i tacchini ripieni il segretario generale della nato jens stoltenberg in un'intervista pubblicata ieri domenica 26 maggio dal domenicale tedesco weltham sontag ha dichiarato sappiamo che la russia interferisce deliberatamente nella nostra democrazia attraverso la disinformazione e gli attacchi informatici questo è particolarmente vero nel momento in cui si svolgono le elezioni secondo l'ambasciatore della federazione russa in italia sergei razzov russia e unione europea sono partner naturali la nostra collaborazione ha enormi potenzialità di sviluppo insieme contiamo più di 650 milioni di abitanti che popolano un territorio di più di 21 milioni di chilometri quadrati disponiamo di enormi risorse naturali una base tecnologica evoluta e vantaggi economici complementari contiamo che nell'europarlamento di nuova composizione invece della retorica sanzionatoria ormai consolidata nel lessico di singoli politici europei risuoneranno appelli al dialogo e alla costruzione del partenariato parlamentare ciò consentirà di abbandonare l'insensata contrapposizione che ha significato perdite multimiliardarie per le imprese europee e perdite nel mercato russo in riferimento alle accuse di intromissione nelle elezioni ha poi detto per qualcuno la mano di mosca spunterebbe letteralmente ovunque tuttavia nessun tentativo di accusare il nostro paese di interferenza nella politica interna di altri stati è mai stato supportato da prove convincenti prendiamo atto con soddisfazione che vi sono forze politiche ragionevoli anche in italia che comprendono l'assurdità di tali contraddittorie dichiarazioni e non sono disposti a rischiare le relazioni tradizionalmente amichevoli con la russia per pura convenienza politica 800 soldati tedeschi che svolgono attualmente missioni all'estero non sarebbero in grado di svolgere adeguatamente i loro compiti a causa di problemi di salute principalmente a livello psicologico ne parla il quotidiano tedesco bild le operazioni dell'esercito tedesco in afghanistan mali e altri paesi hanno un impatto negativo sulla salute dei soldati così afferma la pubblicazione secondo l'autore gli 800 soldati tedeschi che attualmente prendono parte alle missioni all'estero sono sottoposti a un programma di riabilitazione medica la pubblicazione sottolinea che nell'ultimo anno 279 soldati tedeschi sono rientrati da operazioni all'estero con gravi problemi mentali il gruppo fiat annunciato di aver presentato una proposta di fusione con renault con possibile allargamento a nissan e mitsubishi claudio borghi in merito ha precisato staremo attenti che un patrimonio storico italiano venga valorizzato altrimenti interverremo ha inoltre detto che è un'anomalia la presenza dello stato francese nel capitale di renault con il 15 per cento del capitale e non esclude che l'italia nel caso l'operazione vada in porto chieda qualche forma di simmetria potrebbe essere un'idea conclude l'economista il perché della proposta di fusione è presto detto fca ha un'attività redditizia in nord america ma perde soldi in europa allo stesso tempo renault è uno dei pionieri nella produzione di auto elettriche e vanta una vasta presenza nei mercati emergenti tuttavia è assente nel mercato statunitense quindi un accordo tra fca e renault darebbe vita ad un gruppo da 33 miliardi di euro di capitalizzazione secondo il new york times fca e renault potrebbero potenzialmente unire le proprie forze soprattutto in europa dove le due società competono direttamente nel segmento delle auto di piccole e medie dimensioni una delle opzioni allo studio potrebbe essere la progettazione congiunta delle auto e la produzione di veicoli nei rispettivi impianti il che consentirebbe ampi margini di risparmio per entrambe le compagnie eventuali ostacoli all'operazione potrebbero giungere in italia dal punto di vista politico la maggior parte degli impianti europei di fca funziona al di sotto del 50 per cento della capacità il che potrebbe mettere a rischio la forza lavoro operativa sul territorio italiano d'altra parte il consolidamento del settore automobilistico è stato sostenuto per anni dal defunto ex numero uno di fca sergio marchionne che merito ebbe a dire i produttori automobilistici sprecano due miliardi di euro a settimana duplicando gli investimenti che potrebbero condividere l'appello di guaidò è arrivato poche ore dopo che la norvegia aveva annunciato che i negoziati con i rappresentanti del presidente venezuelano nicolas maduro continueranno questa settimana ieri guaidò ha postato un tweet ribadendo che l'opposizione si accontenterà solo della rimozione di maduro dalla presidenza nonostante i negoziati in norvegia guaidò scrive perseguiamo tutte le opzioni con responsabilità il nostro percorso è molto chiaro la fine dell'usurpazione la creazione di un governo provvisorio ed elezioni libere e lo seguiremo in tutte le aree di lotta relativi ai cambiamenti urgenti di cui il nostro paese ha bisogno l'agenzia del demanio sta passando al setaccio gli immobili pubblici per contribuire al maxipiano di dismissioni che negli intenti del governo dovrebbe portare quest'anno nelle casse dello stato 950 milioni di euro in tutto 1600 beni saranno messi sul mercato 400 rientreranno nella lista che il mef inserirà in un decreto doc previsto dalla legge di bilancio altri 1200 di minor valore ma comunque determinanti saranno e in parte già sono oggetto di bandi di gara dell'agenzia dopo la lunga trattativa tra roma e bruxelles a dicembre scorso è stato inserito nella legge di bilancio un consistente programma di dismissioni immobiliari di carattere straordinario nella lista c'è un po di tutto castelli ex caserme ex carceri edifici costieri caselli e piccole stazioni ex stabilimenti industriali e militari dismessi terreni agricoli ed edificabili ex aeroporti ma anche proprietà di tipo residenziali edifici cielo terra appartamenti garage posti auto quote indivise veniamo ora alle elezioni europee e giusto per dare una visione il più possibile imparziale ho trovato interessante dare un'occhiata a quello che dicono di noi dall'estero e un articolo che fornisce alcuni spunti di riflessione quando ancora non vi erano i dati definitivi ce lo dà il suddeutsche Zeitung come potete vedere nell'immagine di seguito abbiamo tradotto e riassunto gli aspetti salienti la lega euroscettica è per la prima volta nella storia italiana la più grande forza del paese ottiene una vittoria spettacolare il ministro dell'interno salvini dovrebbe usare la sua nuova forza ora anche confermata dalle elezioni per chiedere un primo ministro più sintono l'italia sta vivendo una rivoluzione memorabile in meno di un anno matteo salvini è riuscito a capovolgere gli equilibri di potere all'interno del governo populista romano il suo trionfo mette il governo in un dilemma la domanda è se il governo a due teste che ha combattuto su tutto nelle ultime settimane troverà un nuovo equilibrio e forse un nuovo contratto di governo per continuare a lavorare insieme salvini probabilmente farà delle richieste come l'introduzione della flat tax che si richiede nel nord del paese più autonomia per le regioni del nord italia del veneto della lombardia e la costruzione di grandi progetti infrastrutturali come il tav farà torino e lione è improbabile che salvini ora stia spingendo per elezioni anticipate sebbene ci possa essere una prospettiva di una maggioranza di governo puramente di destra di maio la cui leadership ha dimostrato un flop è sotto forte pressione il pd ha raggiunto circa il 22 per 4 punti percentuali in più rispetto al 2018 per nicola zingaretti il nuovo segretario generale del partito pro europeo questo è un successo sorprendente la borghese forza italia di silvio berlusconi ha guadagnato poco meno del 10 per cento un risultato che era stato considerato un obiettivo minimo questo lascia berlusconi ancora in gioco e può argomentare con buona ragione che non ci può essere un governo di destra senza di lui il partito fratelli d'italia la terza gamba della destra italiana ha circa il 6 per cento il partito più europa dell'ex ministro degli esteri emma bonino probabilmente non entrerà nel parlamento europeo al 3,2 per cento circa è rimasto ben al di sotto del necessario 4 per cento questi i numeri definitivi della tornata elettorale europea per quanto riguarda l'italia come dicevamo una lega si posiziona al primo posto con il 34 virgola 33 per cento seguita dal pd 22 virgola 69 per cento movimento 5 stelle 17 virgola 0 7 per cento forza italia 8 virgola 79 per cento fratelli d'italia 6 virgola 46 per cento più europa 3 virgola 09 per cento europa verde 2 virgola 29 per cento la sinistra 1 virgola 74 per cento partito comunista 0 virgola 88 per cento partito animalista 0 virgola 6 per cento questo è quanto dicono di noi in realtà il ministro degli interni sembra già pronto a dare battaglia in europa queste le sue dichiarazioni risulta in arrivo una lettera dalla commissione europea sull'economia italiana se tale lettera sarà fatta la vecchia maniera e dice tagliate tagliate e tagliate allora diremo no è maturo il tempo in cui i leader europei al di là delle appartenenze si siedano a un tavolo per rivedere dei parametri vecchi e superati altrimenti un voto come questo non si spiegherebbe arian shamin dopo aver messo in luce uno dei più grandi scandali del presidente francese macron ora deve essere ascoltato dal servizio di intelligence nazionale ricorderete che un anno fa il giornalista di lemont ha riconosciuto in un video in cui presunti poliziotti picchiavano i manifestanti il capo della sicurezza di macron alexandre benalla ora i funzionali della direzione generale dell'intelligence francese la dgsi vogliono interrogare il giornalista l'agenzia vuole sapere da shamin in particolare come abbia ottenuto informazioni riservate sul sergente della reforce chocri vocrim vocrim grazie a benalla avrebbe stipulato un contratto per proteggere i familiari di un oligarca russo allo stesso tempo si è saputo che la sua compagna mariello di poitou era responsabile della sicurezza del primo ministro francese edouard philippe un messaggio ai giornalisti investigativi probabile gli articoli 413 414 del codice penale francese che è stato reso più rigoloso nel 2009 vietano la diffusione di informazioni che potrebbero portare direttamente o indirettamente all'identificazione di membri di forze speciali ma ci si chiede se questo sia solo un pretesto per convocare arian shamin e il direttore di lemont luiz dreyfus ad ogni modo il messaggio ai giornalisti investigativi è chiaro chiunque scopra un affare di stato viene attenzionato dai servizi segreti solo nelle ultime settimane altri sette giornalisti sono stati interrogati dal dgsi riguardavano la presunta violazione del segreto militare in relazione alle ricerche di consegne di armi francesi in arabia saudita e yemen i sindacati dei giornalisti francesi e una quarantina di redattori dei media hanno protestato che il lavoro della dgsi a nome del governo è un rinnovato tentativo di intimidire i giornalisti che stanno semplicemente facendo il loro lavoro cari amici iscrivetevi numerosi al canale dentro la notizia per avere una visione imparziale dei fatti ed essere al corrente di ciò che i media maestream non dicono aiutateci a diffondere i video e se apprezzate il nostro lavoro sosteneteci ora con una donazione che ci permetta di proseguire un abbraccio dal vostro roby grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti